Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Questa mattina si è consumato un drammatico incidente lungo le strade della provincia di Arezzo. In Valdarno ha perso la vita un uomo di 39 anni. L'incidente mortale nell'Arettino a perdere la vita è stato un 39enne ed è rimasta ferita una donna di 49 anni. È successo alle 10.27 nella frazione di Mercatale Valdarno, comune di Buccine. Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della misericordia di Lucignano, un'ambulanza della misericordia di Teranova Bracciolini e un'auto medica del Valdarno. Sono arrivati anche i vigi e il fuoco che hanno estratto dalle lamiere i feriti e i carabinieri di Buccine per i rilievi di legge. Per l'uomo di 39 anni non c'è stato nulla da fare, ha perso la vita sul colpo e i sanitari hanno soltanto potuto constatarne il decesso. Mentre la donna di 49 anni è stata soccorsa e trasportata all'ospedale della Gruccia in Valdarno. Ci spostiamo adesso in Valdichiana per una maxi operazione antidroga. Due pusher sono stati arrestati dai carabinieri di Cortona in collaborazione con la Polfer di Terontola nel territorio aretino. I due sono stati fermati intorno alle 20 di ieri mentre scendevano dal treno che proveniva da Arezzo ed era diretto a Perugia. All'altezza della stazione di Terontola sono stati fermati dalla Polfer e hanno subito mostrato un atteggiamento sospetto. I due, un 24enne e un 31enne di origini straniere, sono stati quindi identificati e proprio in questo frangente il 24enne ha tentato di darsi alla fuga correndo lungo i binari. Il giovane, inseguito dai carabinieri del NORM, è stato bloccato dopo un breve inseguimento durante il quale alcuni militari hanno riportato ferite e lesioni. I due sono stati quindi sottoposti a perquisizione personale trovati in possesso, il 24enne di 600 grammi di eroina e il 31enne di 40 grammi sempre di eroina già suddivise in ovuli. Sono stati quindi arrestati e per detenzione e fin di spaccio di sostanza stupefacente il 24enne dovrà anche rispondere di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi si trovano presso la casa circondariale di Arezzo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Serrati i controlli da parte dei carabinieri questo fine settimana invece ad Arezzo, in particolar modo nelle zone della Movida. Nella maglia dei militari sono finiti due soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi in carcere, dovendo scontare condanne per 10 anni di reclusione per reati contro il patrimonio stupefacenti. Verifiche poi anche alla circolazione stradale che hanno interessato decine di giovani che dopo la serata in discoteca si sono messi alla guida dei veicoli. I militari con l'etilometro hanno sorpreso tre conducenti in stato di ebrezza alcolica. Per loro è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria e l'immediato ritiro della patente, in un caso anche il sequestro del mezzo. E dopo l'allarme per i furti in abitazione, la sindaco di Castiglion Fiorentino, Maria Agnelli, denuncia pubblicamente anche una serie di colpi nei cimiteri del suo territorio. Stavolta è stato lui stesso vittima dei malfattori. E' quanto racconta in un post sul suo profilo Facebook, il primo cittadino infatti ha scritto che è stata trafugata a una borchia della lapide sulla tomba dei suoi avi. L'episodio ovviamente è stato denunciato alle forze dell'ordine. Ancora cronaca, un insolito episodio in Valtiberina. L'autista dell'autobus non ha la patente e così la gita dei bambini e delle elementari parte in ritardo ma in sicurezza. Gli agenti della polizia stradale, infatti come spesso accade grazie ad uno specifico protocollo sottoscritto nel 2016 con il Ministero dell'Istruzione, hanno effettuato un controllo del mezzo e dei documenti dell'autista. L'autobus era diretto verso una comune del nord Italia. Durante le verifiche è emerso che l'autista aveva la patente di guida scaduta e perciò non poteva assolutamente mettersi al volante senza il rinnovo. Davanti allo sgomento dei bambini e dei genitori, gli agenti hanno contattato immediatamente il titolare dell'agenzia proprietaria dell'autobus che ha subito inviato sul posto un'altra autista, stavolta con tutte le carte a regola e finalmente pronto per partire. Ad indicatore invece arrivano nuove segnalazioni per Bocconi Killer. Questo pomeriggio sono così intervenute anche le guardie zoofile OIPA. È ancora allarme Bocconi Killer. Ad Arezzo l'ultima segnalazione arriva da indicatore in una zona peraltro particolarmente frequentata vista la presenza di un centro commerciale e di giardini dove giocano anche bambini. La seconda volta perché già a luglio c'era stato un caso di avvelenamento, non con i chiodi però con era una polpetta avvelenata però in questo caso si è ripetuto quindi c'è qualcuno che purtroppo prosegue nel suo intento e ora siamo venuti qui abbiamo fatto un giro purtroppo non abbiamo trovato niente e ecco io dico a tutta la popolazione di tenere gli occhi aperti qui in zona indicatore di tenere i cani al guinzaglio e di non perderli di vista mentre nelle passeggiate. Un cane qui è stato recentemente operato d'urgenza perché rischiava di morire dopo aver ingerito un boccone di questo genere. Sul posto il personale della polizia municipale coadiuvato dalle guardie zoofile ha effettuato un accurato sopra il luogo nell'area dove è stata segnalata la presenza di esche avvelenate. Noi siamo a disposizione, collaboriamo con il comune infatti è stata dopo la richiesta inviata via mail siamo corsi subito sul posto e purtroppo non è facile individuare le polpette perché diciamo che in questo caso c'è stato proprio il dolo è evidente. Da Anghiari il grido d'allarme per una colonia felina. Una vera e propria battaglia per salvare una colonia felina che è ospitata qui in questa area agricola di proprietà di un'associazione che si chiama La Gattara. Siamo a Ponte Allapiera, frazione del comune di Anghiari, Valtiberina Aretina. Ho acquistato un terreno con delle case dove all'interno c'erano 70 gatti non miei quindi credevo che funzionasse come al nord che vai, fai il riconoscimento della colonia arriva l'asla, ti fa le sterilizzazioni e insomma si avvia tutto quello che è il processo della tutela dei gatti e invece ho aperto un vaso di Pandora perché qua giù non solo non c'è nessun processo di riconoscimento per i gatti non riconoscono le colonie, è impensabile avere delle sterilizzazioni, ci sono tante altre associazioni che si sono battute per questo anche negli anni e quindi abbiamo fondato l'associazione per tutelare questi gatti che io avevo intorno a casa. Una scelta quella di Eleonora conseguente ai continui episodi di intolleranza nei confronti degli animali. Sono stati uccisi con la carabina nove gatti, io ho fatto denuncia alla forestale tre anni fa. Sono stati avvelenati una ventina di gatti e poi sono stati investiti di recente altri tre o quattro gatti, sono stati uccisi con la pala, ho dovuto fare qualcosa per tutelare questi gatti. Quindi in una situazione di emergenza ho detto che la gente non li vuole, li sposto in questo terreno di proprietà di mio suocero. Oggi il rifugio accoglie circa 40 gatti ma dietro alla segnalazione di un cittadino il Comune ha emesso un'ordinanza di demolizione per abuso edilizio e l'unica strada per l'associazione è il ricorso al TAR con una spesa iniziale di 6.000 euro. Quale abuso stiamo facendo? Quale abuso abbiamo fatto visto che non c'è cemento e non ci sono impianti e siamo in un terreno agricolo di Prato Pascolo? Eleonora preferirebbe una soluzione diversa. Prima fra tutti un colloquio con il sindaco Polcri che nella sua campagna elettorale l'aveva coinvolta per uno sportello animali. E solo in quell'anno lì nel Comune di Anghiare abbiamo fatto quasi 300 recuperi. Finita la campagna elettorale lo sportello animale è stato chiuso e ora vogliono abolire, demolire, chiamiamolo rifugio ma non è un rifugio, è un recinto con una casina. Insomma questo ricovero per i gatti. Ora in questo momento noi abbiamo bisogno che le persone si facciano sentire e che ci siano vicine proprio perché bisogna fare il cosiddetto un po' rumore perché ci sono a rischio questi gatti che un posto non troveranno un altro posto sicuro, quindi abbiamo bisogno che il rifugio rimanga in piedi e quindi abbiamo bisogno poi del sostegno di tutte le persone che si facciano sentire perché l'interesse c'è, però poi l'interesse deve rimanere vivo nel momento in cui poi il problema si pone e questo è il momento. Ma noi non abbatteremo niente, faremo venire appunto le ruspe, non apriremo i cancelli, sarà responsabilità del Sindaco, del Comune e dei cittadini che vorranno riliberare questi gatti. Torniamo a parlare dell'allarme lupo, ci spostiamo in Casentino da dove arriva un progetto per tutelare la biodiversità. Come si sceglie di fare questo mestiere? Guarda, io l'ho veramente scelto perché i miei genitori facciamo tutt'altra cosa. Ho deciso che volevo vivere fuori, nella natura e a contatto con gli animali. Imparare il mestiere del pastore, che è sempre più raro, ma anche il sistema di difesa attiva che grazie al contributo del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi consente appunto ai pastori di difendere i propri animali dalle predazioni. Ma la storia che arriva da Prato Vecchio, siamo appunto in Alto Casentino, territorio del parco, è soprattutto una storia di amore. Siamo nel territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte, Falterona e Campigna. Qui dal prossimo aprile partirà la Shepherd School, letteralmente scuola di pastorizia finanziata grazie al progetto europeo LIFE. Il percorso formativo sarà gratuito, le iscrizioni scadono il prossimo 28 febbraio. È un mondo difficilissimo, molto duro, economicamente è una tragedia. Però sono convinto che più la va e più una pecora conta come 100. Non vorresti perdere niente, ti attacchi, gli dai un nome, è una cosa che gli viene da sé dopo attaccarsi al lavoro. L'obiettivo è la conservazione di alcuni habitat di prateria attraverso la promozione e la valorizzazione delle professioni funzionali a questo scopo. La creazione di una scuola di formazione per nuovi pastori e allevatori punta anche a contribuire e contrastare lo scarso ricambio generazionale. Questo tipo di allevamento fatto nel rispetto delle regole di conservazione diventa proprio uno strumento, un alleato per raggiungere i nostri obiettivi di parco. E quindi aiutare questa attività e dargli elementi anche di conoscenza, di competenza, ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi in maniera non costosa, ma anzi producendo un reddito, quello legato alla pastorizia. Vi siete accorti che questo tipo di attività stavano sparendo? Sì, paradossalmente il parco delle foreste casentinesi ha un problema, cioè ha poche aree aperte e l'Europa ci chiede di conservarle. Il modo migliore è quello di farci un pascolo intelligente, fatto nel rispetto delle obiettive di conservazione e questo è il nostro strumento. Ci sono specie, animali e vegetali legati a queste aree aperte e la pastorizia ci aiuta a conservarle. Gli appezzamenti di terreno come saranno scelti? Ci sono già ditte private che hanno bisogno di successori, poi in parte terreni pubblici che vengono dati in concessione agli allevatori. Contestualmente a questo progetto, all'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, c'è il sistema di difesa attiva per tenere i lupi lontani dagli allevamenti e dunque consentire queste attività. Il progetto di difesa attiva, assieme all'Associazione Difesa Attiva e alla Fondazione Capellino, noi forniamo i cuccioli di cane che è un pastore maremmano abruzzese, che è stato selezionato per essere aggressivo nei confronti del predatore e per non creare invece problemi agli escursionisti che attraversano i sentieri del Parco Nazionale e forniamo sia l'assistenza veterinaria che il cibo per i cani. È un'azione importante che contribuisce ad alleggerire gli allevatori e i pastori di un costo importante da dover sostenere. Io credo che fuori dai confini del Parco Nazionale dovrebbe essere la stessa cosa e cioè gli allevatori dovrebbero essere sostenuti per quanto riguarda la prevenzione dei danni e nel caso in cui invece il danno dovesse avvenire naturalmente ci deve essere un rimborso congruo e veloce da parte dell'amministrazione pubblica. Soltanto così si può continuare a fare conservazione fatta bene del lupo che è all'apice della catena alimentare, è naturalmente un regolatore di biodiversità però il costo deve essere un costo sociale della collettività e non soltanto lasciato a carico di chi svolge attività di allevamento in queste zone. Un mestiere, quello del pastore, che è dunque una vera scelta di vita. Questo si capisce bene visitando l'azienda di Gianluca Sestini dove persino una capretta che preferisce stare nella stalla con le sorelle pecore viene rispettata. Ho 10 capri, 259 pecore, ora una marea di agnelli, 3 o 4 mucche che non mi fanno reddito ma prese perché andavano in macello, proprio per niente, così. Però, te l'ho detto, le dure, però io voglio venire a tutti come se fossero dei figlioli. Economia, commercio ambulante, un appello dalla categoria ai politici e alle amministrazioni locali. Dopo due anni di Covid è comunque una congiuntura economica complicata. Come sta il settore e quali sono i suoi bisogni? Il settore attraversa una fase delicata. Chi in questo momento si trova a frequentare i mercati ma anche le fiere tradizionali del nostro territorio vede una situazione di stanca, sia dal punto di vista delle presenti. A volte troviamo ancora numerosi posteggi e concessioni, indipendentemente dalla stagionalità, purtroppo desolatamente vuoti, ma anche dal punto di vista dei visitatori. Il Covid non solo sta cambiando le abitudini agli acquisti, anche quella che era la clientela che normalmente frequentava i nostri mercati. Alla crisi dei consumi si accompagna anche la sensazione di una sempre minore qualità della merceologia offerta. Quello che diamo sostanzialmente è una continua e maggiore attenzione a questi problemi e tempi della politica più rapidi. L'articorio degli ambulanti ha bisogno di essere in maniera importante riqualificata. Quindi il mercato ha bisogno di una riqualificazione generale. Bisogna intervenire sulle norme, su quelle che ci sono per farle applicare e anche su altre norme di carattere fiscale o di carattere generale che devono dare impulso alla ripartenza di questo settore che come tutti i settori ha scontato e sta scontando una crisi importante dal punto di vista economica ma che ha scontato soprattutto una fase di stallo che è durata diversi anni relativamente all'applicazione della direttiva Bolkesta che fortunatamente almeno in Toscana sembra essere stata superata visto che oltre il 90% dei comuni hanno provveduto a rinnovare le concessioni o comunque stanno rinnovando le concessioni ora è il momento di guardare oltre per evitare che questa diventa una categoria marginale rispetto al mondo del commercio e che possa riprendere un po' quello slancio che l'aveva caratterizzata un po' negli anni passati. Secondo voi è anche una sorta di concorrenza sleale in questo senso? Ma sicuramente è una concorrenza sleale perché capisce lei che se io devo pagare determinate tasse del suolo pubblico e accanto a me ho gente che non lo fa, che non lo paga chiaramente il prodotto lo può vendere a prezzi più bassi. Sono 36 le palline elettroniche installate da Autolinea Toscana e Adarezzo a queste se ne aggiungono altre 47 attivate su tutto il territorio provinciale la nuova fermata intelligente di fronte al parcheggio Baldaccio è stata presentata questa mattina si tratta di palline innovative con batterie interne schermo 13 pollici dalla leggibilità ottima da qualsiasi angolazione il display è illuminato per essere visibile anche nelle ore notturne tutte le palline poi hanno anche un pulsante audio per la vocalizzazione dei messaggi informativi cambiamo argomento dolci specialità gastronomiche il regalo a casa di riposo Fossombroni e casa Teverin si tratta dell'iniziativa solidale della filiale di Via Romana di Banca Tema che ha dimostrato vicinanza e attenzione verso le attività di questi due istituti cittadini prevedendo una golosa donazione per ospiti e operatori e dunque la banca ha rinnovato ancora una volta l'impegno in iniziative di beneficenza a sostegno di situazioni di bisogno o di enti impegnati in ambito socio-sanitario parliamo adesso di cultura alla Teatro Petrarca il primo appuntamento con l'Arezzo Science Lab con uno spettacolo di Pier Giorgio Odifreddi molti di questi signori che vedete qui hanno preso quello che è il premio Nobel per l'informatica che si chiama, non a caso, medaglia Turing Pier Giorgio Odifreddi sul palco del Teatro Petrarca per spiegare l'intelligenza artificiale quando arriverà il livello di complessità di un cervello umano cosa potrà fare un'intelligenza artificiale? il matematico, logico, scrittore, saggista con lo spettacolo, intelligenza artificiale e l'ultima scintilla è stato il primo ospite di Arezzo Science Lab il nuovo progetto di fondazione guido d'Arezzo e associazione Lab con Feltrinelli in programma cadenza mensile nei sabati della fiera antiquaria sono macchine che sono ormai arrivate allo stesso livello di intelligenza dell'uomo e spesso lo superano per esempio nel gioco degli scacchi ormai le macchine sono molto più brave degli uomini naturali e l'intelligenza artificiale sta crescendo a ritmo vertiginoso però l'idea che le macchine poi prendano sopravento è un'idea molto antica infatti nella conferenza al teatro sull'intelligenza artificiale faccio vedere quali sono le origini letterarie diciamo di questo mito il mito di Pigmalione per esempio e di Galatea è già quello è l'idea che uno scultore può fare una statua così bella che si assomiglia talmente tanto a una donna che vorrebbe che quella fosse veramente una donna e in realtà il mito del golem ad esempio Frankenstein l'apprendista stregone di Goethe che poi è diventato un film di Walt Disney con la scopa che andava avanti e indietro questo tema della macchina che scappa di mano e che diventa poi alla fine un problema per il suo inventore è un tema che pervade tutta la letteratura o perlomeno tutta una parte della letteratura quindi i letterati ci hanno messo in guardia e noi continuiamo ad andare avanti a proposito del correre verso il burrone questo è un altro dei motivi che fanno pensare che l'umanità potrebbe appunto alla fine decretare la sua fine Passiamo alla pagina dello sport la società sportiva Rezzo prenderà parte con la propria formazione Juniors nazionale alla 73esima edizione del torneo di Viareggio a 17 anni di distanza dall'ultima partecipazione nell'anno in cui ricorre il centenario della fondazione del club Amaranto il cavallino dunque scenderà nuovamente in campo in una delle più importanti manifestazioni di calcio giovanile a livello internazionale in programma dal 20 marzo al 3 aprile e la storia delle ragazze imbattibili che hanno conquistato la serie B invece è approdata nelle scuole questa mattina prima tappa della proiezione del docufilm prodotto da tranti di audiovisivi sull'Arezzo calcio femminile alla scuola media Margaritone ad assistere tutte le classi terze accompagnate dai docenti e erano presenti ovviamente anche le ragazze Amaranto molteplici gli obiettivi sia da parte dell'Arezzo calcio femminile che ha voluto fortemente portare questa storia nelle scuole che per i docenti stessi ossia trasmettere la consapevolezza della parità di genere ma anche la forza di volontà la determinazione e lo spirito di sacrificio passiamo adesso all'atletica quinto posto per l'Alga Atletica Arezzo ai campionati italiani Juniores e promesse di Ancona la manifestazione ha riunito una ristretta selezione di atleti che nei mesi scorsi erano riusciti a conquistare la qualificazione e tra questi erano presenti ben quattro aretini che hanno dunque vissuto l'emozione di competere per il tricolore nelle diverse discipline il miglior piazzamento è arrivato nel salto in alto con Federico Rubecchini del 2004 che ha confermato il proprio talento con una prestazione da un metro e novantotto che valsa il quinto posto finale tra i Juniores ed ad appena 4 cm dal podio questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci